Buonasera, salgono a sette i candidati a sindaco di Imperia. La cosa era già nell'aria ed ora è stata confermata con la candidatura di Lucio Sardi a capo di una lista civica legata a sinistra italiana e liberi uguali. I particolari in un servizio. La settima candidatura a sindaco di Imperia era nell'aria da tempo e puntualmente si è verificata. Scendere in campo è Lucio Sardi che sarà capo di una lista civica che fa riferimento a sinistra italiana e liberi uguali. La candidatura di Sardi, commercialista e componente del CDA di Goimperia per la minoranza, si inserisce nel quadro della spaccatura creatasi nel gruppo consigliare di Imperia Bene Comune e messa in luce già nei giorni scorsi con la candidatura di Maria Seppe per potere al popolo. Dunque ad oggi per la corsa alla poltrona di sindaco di Imperia sono in gara l'ex ministro Claudio Scaiola con liste civiche e popolo della famiglia, Luca Lanteri per il centrodestra, Guido Abbo per il centrosinistra, Maria Nella Ponte per il Movimento 5 Stelle, il civico Alessandro Casano e nell'area di sinistra appunto Maria Seppe e Lucio Sardi. La presentazione ufficiale della Seppe è prevista per giovedì mattina nella sede di Arci Camalli sul porto negliese e quella di Sardi venerdì mattina nella sede di Sinistra Italiana nel palazzo di via San Giovanni dove ha sede anche il PD. Sempre sul fronte politico il centrodestra si prepara a lanciare i suoi candidati a Bordighera e ad Alassio. Gli eventi sono in programma venerdì pomeriggio. Vediamo. Venerdì sarà una giornata intensa per il centrodestra. Nel pomeriggio infatti ci sono una serie di appuntamenti in programma a Bordighera, Alassio e Imperia. A Bordighera per lanciare ufficialmente la candidatura a sindaco del primo cittadino uscente Giacomo Pallanca arriverà il presidente della regione Giovanni Toti che ha però dovuto incassare il malcontento di Marco Laganà che nel corso dell'ultimo consiglio comunale Bordigotto ha dichiarato di aver riconsegnato la tessera di Forza Italia al partito dopo la scelta di candidare Pallanca. Stessa cosa aveva fatto il presidente del consiglio comunale Mauro Bozzarelli, ex tesserato di Fratelli d'Italia. Sempre nel pomeriggio di venerdì in programma anche il lancio della candidatura a sindaco di Alassio del sindaco uscente Enzo Canepa. Con Toti ci saranno Maria Stella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, parlamentari, assessori e consiglieri regionali. Ma anche ad Alassio Toti ha dovuto digerire la candidatura a sindaco contrapposta di Marco Melgrati. Il gruppo dei politici di centrodestra con in testa la Gelmini chiuderà la giornata a Imperia per la convention di Luca Lanteri in programma al Cinema Centrale alle 18. Attimi di paura questa mattina a Sanremo per lo scoppio di una cabina elettrica in via Volta. Sono intervenuti i vigili del fuoco, tecnici Enel e per precauzione è stato evacuato l'edificio delle poste. I particolari in un servizio. ...di esplosioni e del fumo legati allo scoppio di una cabina elettrica ha creato attimi di preoccupazione questa mattina in via Volta a Sanremo. Sono intervenuti i vigili del fuoco, polizia, carabinieri e agenti municipali e per precauzione è stato fatto evacuare l'edificio delle poste. Si è poi scoperto che gli scoppi erano stati originati da una cabina elettrica andata in corto circuito in un semi interrato e sono stati quindi fatti intervenire i tecnici dell'Enel. Per fortuna l'incidente non ha creato particolari problemi, a parte la paura e dei cali di tensione nella linea elettrica della zona interessata. L'edificio postale è andato in blackout ed è stato sfollato dopo che alla prima esplosione si sono verificati altri scoppi, uno di fila all'altro. Il Consiglio Comunale di Sanremo, non senza polemiche legate anche al numero legale, ha approvato il bilancio di previsione. I conti pareggiano a 133 milioni e le spese maggiori sono per il personale e il sociale, i particolari in un servizio. È durata circa sei ore la seduta del Consiglio Comunale di Sanremo chiamato ieri sera a discutere il bilancio triennale preventivo. In votazione c'erano proprio i conti dell'amministrazione per i prossimi anni. Il parlamentino, dopo un lungo dibattito seguito da scontri, ha infine votato favorevolmente il documento con un solo voto contrario dell'opposizione ed un astenuto. Seduta caratterizzata da un ritardo della riunione per la protesta della minoranza per il numero legale, uscita fuori dall'aula in attesa dell'arrivo di tre consiglieri di maggioranza. I conti pareggiano a 133 milioni, le spese in aumento sono per il personale circa 16 milioni e il sociale difeso a 11. La seduta è proseguita con le proposte di Sanremo al centro attraverso un emendamento di Sindoni e di Sanremo attiva con tre ordini del giorno, bilancio sociale, risparmi sugli affitti del comune e vendita dei parcheggi pubblici. E Forza Italia che ha presentato anche un ordine del giorno per ultimare la carrozzabile in zona San Lorenzo firmato dai consiglieri Baggioli e Balestra. Il consigliere Fabio Ormea di Sanremo insieme invece ha criticato lo scarso impegno sul patrimonio culturale avanzando l'aumento dell'addizionale IRPEF sui redditi sopra i 35 mila euro per aumentare lo 0,44% delle risorse del municipio impegnate per sport e giovani. La discussione quindi ha riguardato la presentazione degli ordini del giorno. Tre sono stati firmati appunto da Sanremo attiva, uno sugli affitti dei locali da parte del comune in relazione al piano delle alienazioni con la richiesta che la vendita venga subordinata alla verifica degli immobili sfitti, uno per l'introduzione del bilancio sociale come strumento più comprensibile per i cittadini e uno sulla lineazione dei parcheggi della nuova stazione ferroviaria per chiedere che la vendita venga stralciata dal bilancio preventivo. La Sise ha votato favorevolmente i primi due ordini del giorno, ritirato invece il terzo con l'impegno a discuterne in futuro. Ordini del giorno di Forza Italia con la richiesta che le colonine di servizio nell'area di transito della diga foranea vengano rimesse in funzione facendo pagare per il servizio e anche per il completamento della strada carrozzabile San Lorenzo e la messa in sicurezza della zona. La Sise ha votato negativamente con un'apertura per i lavori della zona C2 di San Lorenzo. Cambiamo argomento. Bordighera si è giudicata per la ventiquattresima volta la bandiera blu. Il riconoscimento internazionale istituito nel 1987, anno europeo dell'ambiente, che viene assegnato ogni anno in 49 paesi, inizialmente solo europei, più recentemente anche extraeuropei, con il supporto e la partecipazione delle due agenzie dell'ONU, UNEP, il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente e l'Organizzazione Mondiale del Turismo, con cui la FI ha sottoscritto un protocollo di sodalizio globale e riconosciuta dall'UNESCO come leader mondiale per l'educazione ambientale e l'educazione allo sviluppo sostenibile. Il 7 maggio una delegazione dell'amministrazione comunale di Bordighera volerà a Roma per ritirare il prestigioso vessillo che verrà poi consegnato agli stabilimenti balneari. Esplode la polemica dei sindacati per le aperture degli esercizi commerciali nei giorni festivi e in particolare per il 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno. La FISA scatta CISL ha ribadito la propria contrarietà e scatta la mobilitazione. Vediamo. Il giorno di festa non può essere dedicato al lavoro. Il 25 aprile, il 1 maggio e il 2 giugno sono giornate da dedicare agli affetti e alla vita di relazione anche per gli oltre 3 milioni e mezzo di lavoratrici, lavoratori del commercio e della grande distribuzione organizzata. Lo evidenzia in una nota Pierangelo Raineri, segretario nazionale della FISA scatta CISL, che ribadisce la forte contrarietà alle aperture degli esercizi commerciali nelle giornate di festività. Numerose le iniziative di mobilitazione in Lombardia, Toscana, Lazio e Puglia, CGL CISL e UIL hanno proclamato lo sciopero, mentre in Liguria dai sindacati di categoria FISASCAT CISL e UIL TUX arriva un appello all'astensione dal lavoro nei giorni festivi. Per Pierangelo Raineri è giunto il momento di approntare seriamente un percorso concertativo tra enti locali e sindacati al quale affidare la competenza sul calendario di aperture commerciali, anche perché la liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali per Raineri non ha assortito aumenti di fatturato, ma ha invece generato una concorrenza spietata e amplificato le vertenze nel settore. Ed ora facciamo una piccolissima pausa, fra poco. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. nello stand del comune di Andorra. Il programma di quest'anno si preannuncia particolarmente ricco e interessante per il pubblico che oltre a visitare la mostra a mercato a facciata sul porto potrà partecipare numerosi laboratori, fra cui quello per imparare a fare il pesto al mortaio, degustazioni guidate, aperitivi liguri. Per i bambini c'è anche uno spazio con giochi gonfiabili. La domenica sarà protagonista l'olio extravergine con l'Onao, l'organizzazione degli assaggiatori d'olio d'oliva. Lunedì 30 sarà presentato il progetto dedicato alle scuole con la merenda biologica offerta ai bambini dalla Conad. Il direttore generale Certi Quality consegnerà l'attestato ISO 14001 a Francesco Bruno, presidente Ama e a Mauro De Michelis, sindaco di Andorra. Nel pomeriggio sarà la volta del pesto al mortaio. Martedì, infine, viaggio attraverso i sapori della cucina di mare e di terra. Nel fine settimana, dal 4 al 6 maggio, a Marina degli Aregai si svolgerà Mercato Retro, un appuntamento per gli appassionati di veicoli d'epoca e non solo. L'organizzazione è firmata a Liguria Classic e da parlarcene è Giuseppe Losicco. Losicco, 4, 5, 6 maggio, Marina degli Aregai, Mercato Retro con Liguria Classic. Cosa significa? Cosa ci sarà per il pubblico? Liguria Classic organizza questo evento a Marina degli Aregai, dove praticamente faremo tutta un'esposizione di retro, perciò vintage, visto che è tanto di moda, diciamo. Quindi non solo auto e moto d'epoca? No, auto e moto d'epoca, vestiti, esposizioni di bambole d'epoca, ci saranno anche delle sorprese durante la manifestazione, così, di balli, eccetera, qualcosa. Il club ha a disposizione, se vogliono venire, a partecipare a questo evento gratuitamente, a esporre i propri programmi e così anche i collezionisti possono venire dal nostro mercato retro a parcheggiare le auto gratuitamente e con le loro appunto auto d'epoca. Ci sarà una serie di espositori di antiquariato di qualità, tendo a dire questo, e un'area bimbi con la Formula 1 in grandezza naturale, poi che dire, il posto è di prestigio e penso che la manifestazione abbia il suo perché. Tre giorni per appassionati, ma tre giorni per tutti, per famiglie. Io direi per tutti, sì, ce n'è per tutti i gusti. Abbiamo voluto fare questo mix di cose, anche se ti dico la verità, era un po' pericoloso, però io sai che ci provo sempre a fare questi eventi così un pochettino rischiosi, diciamolo così, dai. E allora ce lo godremo al 4, 5 e 6 maggio, Marina degli Aregai, dalle 10 alle 19 al primo giorno e poi dalle 8 alle 19, sabato e la domenica. Vi aspettiamo. Il 25 aprile ad Alassio le celebrazioni dell'anniversario della liberazione prenderanno il via alle 10 con il saluto del sindaco e dei rappresentanti delle associazioni di partigiani. L'orazione ufficiale sarà poi tenuta dal giornalista e scrittore Daniele Lacorte, cui seguirà la premiazione del concorso indetto da Lampi tra i ragazzi delle scuole di Alassio ed il lancio di palloncini tricolore da parte degli alunni della quinta elementare. Durante la cerimonia verranno eseguiti i brani musicali da parte dell'Alassio, che è sull'orchestra dell'Istituto Comprensivo Statale di Alassio, con la partecipazione del coro degli alunni della scuola elementare. Infine, deposizione di corone in comune ai monumenti dei caduti e alla lapide del pontile Bestoso, dove si concluderà la manifestazione. E veniamo ora all'angolo di Daniele Lacorte. La riflessione di oggi di Daniele è dedicata al ricordo del 25 aprile dei tanti che hanno combattuto nelle file della Resistenza. Ascoltiamo. Ricordare e non commemorare. Domani è il 25 aprile ed è doveroso rendere omaggio ai caduti per la libertà, alle donne e agli uomini che hanno immolato la loro vita per ridare la democrazia al Paese. Ma non c'è democrazia senza libertà. Così sottolineavano con forza coloro che si ribellarono al gioco nazifascista, all'atrocità di un regime che aveva messo in ginocchio il Paese. Domani ricorderemo i tanti che hanno combattuto e i tanti che hanno permesso l'organizzazione di quell'esercito scalzo che ancora oggi viene portata ad esempio in ogni angolo della terra. Canteremo gli inni dei partigiani da Fischia al Vento a Bella Ciao nell'intento di far sapere con forza a chi vorrebbe farci tornare in camicia nera che non passeranno né le loro idee sovversive, né le loro bandiere, né la loro assurda nostalgia. Molti diranno che il fascismo è troppo lontano dalla realtà, che sono passati ormai 73 anni, che Hitler e Mussolini sono polvere da troppo tempo. Ma ricordiamo che fascismo è sinonimo di violenza, è fascista lo studente che insulta e minaccia il professore, è fascista il bullo che per strada attacca il più debole, è fascista chi spaccia droga, chi mette bombe, chi parla alle pance e non alle teste della gente. È fascista anche il poliziotto, il carabiniere che picchia il cittadino inerme, ma è altrettanto fascista chi picchia il poliziotto, chi picchia il carabiniere. Buon 25 aprile a tutti. Ed ora le rubriche Riviere Venti, Autostrada dei Fiori e noi ci vediamo subito dopo per le previsioni meteo. Autostrada dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS A causa del prevedibile aumento del traffico previsto per le festività del 2020, 25 aprile e primo maggio, non sono previsti cantieri nelle seguenti giornate. Tutta la giornata di martedì 24 aprile, direzione Francia, da Savona a San Bartolomeo, dalla mezzanotte di mercoledì 25 aprile alla mezzanotte di mercoledì 2 maggio, entrambe le carreggiate su tutta la tratta. Per le restanti giornate della settimana in oggetto non sono previsti cantieri che potrebbero causare rallentamenti al traffico. Le previsioni meteo a cura di Arpal Meteo Liguria. Domani mercoledì 25 aprile, giornata caratterizzata da tempo stabile e soleggiato. La presenza di un flusso umido meridionale porta alla formazione di locali addensamenti di nubi basse, in particolare sul centro della regione. Umidità sui valori medio-alti, venti deboli da sud-destra a Levante e da nord-destra a Ponente, locali rinforzi al più moderati. Mare poco mosso, quasi calmo. Dopodomani, giovedì 26 aprile, sulla Liguria, ancora tempo soleggiato, sia sulla costa sia sulle zone interne. Locale formazioni di addensamenti di nuvolosità bassa, in particolare sul centro e sul ponente della regione. Umidità sui valori medio-alti, venti deboli da sud-destra a Levante e da nord-destra a Ponente, possibili isolati rinforzi, mare poco mosso o quasi calmo. E con questo proprio concluso, grazie di averci seguito, ed ora vi lascio al Tg nazionale di ADN Cronos. Arrivederci. Bolloré fermato e interrogato per tangenti. Alfie lotta per vivere, riattaccato l'ossigeno, governo Fico ci prova, ipotesi in movimento 5 stelle PD. Fermato e interrogato l'imprenditore francese Bolloré, posto in custodia cautelare nell'ambito di un'inchiesta su tangenti pagate dal suo gruppo in Africa nel 2010, in relazione a delle concessioni portuali in Togo e Guinea. Il numero 1 di Vivendi la scorsa settimana ha lasciato il timone della guida dell'azienda al figlio. Nominato nuovo presidente, il gruppo smentisce tutte le irregolarità. L'equip del bambino Gesù pronta per partire con un aereo fornito dal ministro Pinotti per portare in Italia il piccolo Alfie. Il bambino gravemente malato, isolato ieri dalle macchine dopo una sentenza di un tribunale inglese e che invece incredibilmente ha respilato da solo per 9 ore. Adesso è nuovamente attaccato al respiratore e sorprendente, dice la mamma. Iniziate le consultazioni di Fico nel suo ufficio a Montecitorio. Il presidente della Camera, che ieri ha ricevuto il mandato per verificare una possibile intesa per un governo Movimento 5 Stelle PD, vede oggi i Dem e i Grillini. E per questa edizione è tutto, grazie per essere stati con noi. Per ulteriori aggiornamenti basta collegarsi come sempre alla sito adncronos.com. Arrivederci dalla redazione web.